Il 18 maggio, dopo due mesi ormai di stop, i negozi potranno riaprire, ma riapriranno con tante incognite. Come si riapriranno queste porte, queste vetrine il prossimo lunedì? Situazione complicata, nel senso che cercheremo di essere positivi, cercare di, dopo questa tragedia vissuta in questo periodo, cercare di pensare al futuro in maniera... Vengono segnali molto buoni, molto ottimi, direi, dal mercato cinese. Quindi i negozi in Cina hanno fatto un grosso lavoro, so che dei record addirittura mai successo prima d'ora. Quindi la speranza, l'Italia è diversa, il mercato è diverso, la crisi economica è diversa sicuramente, il mercato è in espansione, qua da noi è più difficile, però speriamo che la gente abbia voglia di riprendersi, di prendersi, insomma, di avere un'atmosfera più serena. Serena, per dire. Restano da capire però le modalità di riapertura, cioè come si potrà accedere ai negozi e soprattutto come ci si potrà provare capi d'abbigliamento parlando di moda? L'utilizioni sono tante, tante. Poche, ma insomma, uno è o fare tipo delle tutine, tipo come succede in alcuni shooting di moda che prendono e coprono le braccia, le mani e fino al collo e uno indossa e sanifica quelle, le porta alla lavanderia e sanifica e uno solo ci mette gli abiti, potrebbe essere un'idea. Se poi quelle vengono lavate, lavanderia, sanificate, quindi ne fa un po' e via via, ogni giorno vengono pulite e sanificate. Oppure, altra cosa sarebbe di poter prendere gli abiti e sanificarli ogni volta che uno li indossa. Ma certi pezzi purtroppo importanti, è molto difficile dire che sanificare tre o quattro volte un capo d'abbigliamento prestigioso o una seta o un materiale delicato. Quanto ha risentito il settore della moda, della crisi derivante dall'emergenza Covid-19? Insomma, avete una stagione più o meno persa, quella primaverile? Dunque, è stata molto dura, è molto dura, nel senso che abbiamo fatto un inverno chiuso, va bene, con i saldi, eccetera. Siamo partiti la primavera estate, dopo iniziato a mettere fuori l'abbigliamento della stagione, è successa questa tragedia, diciamo così, e quindi tutta la parte primavera estate, l'abbigliamento che è, buona parte è fermo nei nostri magazzini e nei negozi. Quindi, dico, è meno male, da una parte con l'online ci siamo un po' salvati, nel senso che spedendo in tutte le parti del mondo, abbiamo visto un po' una parte, ma non basta, non è sufficiente a dire che la stagione è stata positiva. Stagione veramente molto negativa. Sembra che con i saldi che partono ad agosto, quelli fisici nei negozi fisici, prima agosto potremo magari, in questi due mesi, se la positività in Italia e in Europa sarà come in Cina, potremo fare un lavoro e recuperare un po', confidiamo in questo.